Niente feste in piazza e niente attività per le famiglie, anche a Corbetta quest'anno sarà un Natale sobrio all'insegna delle restrizioni previste dal governo. Ma sobrio non significa necessariamente triste e per questo motivo il Comune ha già installato da tempo le luminari e gli addobbi per le vie della città. Sabato pomeriggio alle 17 le luci verranno accese, così come verrà acceso l'albero di Natale allestito in piazza. Un intervento dal costo significativo che l'amministrazione ha voluto però realizzare con risorse trovate nel bilancio comunale per non pesare ulteriormente sui commercianti già colpiti dalle chiusure delle scorse settimane. Sì, purtroppo sarà un Natale particolare come è particolare la nostra vita ormai da febbraio ad oggi e come lo sarà ancora per un po' di tempo, perché la priorità è fermare il contagio di questa epidemia sanitaria. Tutti gli eventi che abbiamo pensato per il nostro Natale a Corbetta, un Natale che facciamo sempre in piazza con tante persone, tanti eventi per bambini, famiglie, anziani, quest'anno purtroppo non ci potranno essere. Vogliamo però dare sempre un segnale del Natale, perché è importante avere l'animo, avere il pensiero del Natale nei nostri cuori. Allora abbiamo pensato a fare le luminarie, noi come amministrazione comunale, per tutti i commercianti, per non fargli spendere alcun denaro in questo momento difficile. Faremo un albero luminoso, molto molto bello in piazza del popolo e ci sarà un albero dedicato alle scuole elementari da far addobbare ai bambini.